Erano le 5 del mattino di ieri quando sulla strada statale 194 Catania Ragusa, all'altezza di Carlentini, il 21enne Salvatore Tinnirello ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane originario di Lentini, militare in servizio del 24esimo reggimento artiglieria terrestre Peloritani di Messina, alla guida della sua Ford Fiesta si è scontrato frontalmente con un'altra autovettura proveniente dalla direzione opposta. Il militare che ha avuto la peggio viaggiava verso Lentini e pare sia morto a causa del violento impatto. Solo lievi ferite invece per il giovane che si trovava in macchine con Tinnirello. Il conducente della seconda auto, un 59enne sempre di Lentini, è stato trasportato invece nell'isoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente che ha coinvolto anche un furgone sopraggiunto subito dopo il primo scontro e che ha impattato contro la macchina del militare. Anche l'autista del furgone, un uomo di 52 anni di vittoria, è stato trasportato all'ospedale di Lentini in condizioni però non gravi.